Addio sogni di gloria per la Dalia Management. Corsa, grinta, cuore, 10 gol fino all'overtime. La spunta il mamma San Marzano. In una maniera incredibile sulla Dalia, le emozioni ed i continui capovolgimenti di fronte prendono il sopravvento al cospetto dell'errore. Quello di Francesco Russo che ha dato il Lalla a vittoria di Granata suggellata da Fabrini per il definitivo 8-10. In fin dei conti, gli sbagli stessi sono parte integrante del percorso. Ti fanno apprezzare la bellezza degli eventi e ti lasciano comprendere che nella vita migliorarsi è la vera sfida quotidiana. Il club di Calenda vola così alle fasi finale 14, 21 e 28 febbraio, il primo turno con la prima in casa contro i molisani del Torre Maggiore nel triangolare in cui sono presenti gli abruzzesi del città di Chieti. Un'escalation di emozioni che ha accompagnato il trionfio dei ragazzi di patrono Alfonso Calenda che in finale suvano a rigori la Dalia Management prima 3-5, 5-5 al punteggio dopo i supplementari dal dischetto fatale appunto l'errore di russo, segno Favero, Pascottini e Caetano che calcio all'auto dalla porta difesa da Gennaro Grimaldi. Perfette invece le esecuzioni di Ferraioli, Dammora, Ferrara, Marco Adiletta e Fabrini che realizzano il penalty decisivo facendo partire la festa della torsida Granata. Ora la formazione cara a Roberto Dalia guarda il campionato. L'occasione di rivincita passa proprio dalla prossima giornata quando la Dalia ospiterà tra le mura amiche l'almama Samarzano. Grazie a tutti.